A volte, piccola pesca, anche i tuoi alchi fanno qualche errore. E con i tuoi alchi intendo Diego. Oh no, ancora! Visto che non gli era stato chiesto di partecipare alla preparazione dei tuoi regali, ha pensato che non lo volessimo più nella famiglia. Avrebbe potuto chiederlo, ma lui? Ogni volta. Ma lui? No! Così il tuo zio Diego se n'è andato. Si è lasciato! Era sicuro che quella vita di famiglia avesse finito per fiaccare il suo spirito di cacciatore. Ed è così che ha pensato alla prova perfetta. Andare a caccia? Ecco, appunto, guarda, lo sapevo. Sì, io. Nah, tranquillo, adesso mangio. Anche io tra poco mangerò. Usa L per muoverti e iniziare l'inseguimento. Ok, fa... Ah, ok. Stavo dicendo, fammelo fare. Quindi è una prova solita di corsa. Vai e insegui. Ok, posso anche saltare. Va bene. Posso curvare con estrema fatica. L1 per affrontare la derapata con le curve. Vabbè. Ok, quindi... Mario Kart maniera. Abbiamo anche le derapate. Prendilo. Bravissimi. Levati. Levati. Piccolo maialino. Una pera. Ah, saltata. Fa niente, fa niente, fa niente. Erano solo 50 punti extra. Non gli importa. L'importante sono i cristalli. Poi il resto, onestamente, è secondario. Anche se l'ananas comunque non lo lascerei da parte. Oh, ma sì. Siamo lì vicini, eh. Ci manca un minuto ma siamo già attaccati alla pre. Dai, no. Ho preso una curva. Troppo larga. Però fa niente. Abbiamo preso il cristallo. Forse se lo prendevo... No, e dai. Se lo prendevamo subito la preda. Saltavamo il cristallo. Non lo so. Può essere. Vi dovete levare. Vi dovete maledettamente levare. Fuck. Eravamo praticamente attaccati a lui. Bastato un animale in mezzo alle scatole. E ce lo siamo persi. Ecco, appunto. Di nuovo. Ma porca. A parte che la visuale mi dà un fastidio che continua a oscillare in questa maniera. E di nuovo vi dovete levare in mezzo alle scatole. E di nuovo vi dovete levare dalle scatole. Maledizione. Maledizione. Eh, ciao. 9 secondi. Chi si avvicina più ora? Eh, oddio. Oddio. Gli ultimi secondi eravamo praticamente attaccati. No, da capo. Dobbiamo rifarla. Ma scusami, ma questa prova non ha senso. Perché se io la prendo poi... I cristalli... Scusami. Come... Eh, che palle di nuovo. Scusami, eh. Ma se io lo prendo prima del tempo, prima di arrivare ai cristalli... I cristalli non li raccolgo io. A meno che non siano già raccolti adesso. E quindi me la fa saltare la cosa dei cristalli. Un po' lo spero, in realtà. È più una speranza che altro. Potrei lasciar perdere... Le ciliegie. Quello sì. L'importante è i cristalli, eh. Ecco. L'importante erano i cristalli. Ehi, che ti succede? Hai bisogno di riposarti un po'? Mi stavo solo scaldando. Oh, beh, fammi sapere quando sei caldo. Così potrò darti un'altra lezione. Ma me li ha dati i cristalli. L'importante è quello. In teoria mi sembra di sì. Esatto. Cristalli raccolti tutti. Va bene. Va benissimo così. La Orca. Allora. La Orca.